Ragazzi, ho il Gerso alla mano Bella tutti ragazzi, sono Dimito, oggi sono qui, tornato ancora con la nostra stupenda carriera E oggi siamo qui, come l'ho partito a precedente, ci siamo fermati a Celtic perché dovevamo giocare la Champions League Anche oggi potremmo senza webcam perché ancora non sono in formissima Mi scuso per l'episodio precedente per i volumi troppo alti ma non me ne ero accorto al momento E solamente dopo nell'editing mi sono accorto che veramente si sentiva da schifo Quindi oggi ho fatto dire tutti i volumi e sti cazzi Con questa rosa andremo a affrontare il Celtic sperando di vincere e come ho detto sempre l'episodio scorso Assicurarci i 4 punti così da niente perché 4 punti non facciamo un cazzo E niente, andiamo alla partita che è molto meglio Ed eccoci qui all'East Point Arena Celtic-Benfica per la nostra seconda partita di Champions League Champions Cup, vabbè, quello che è Tanto vediamo qui Sì, va bene, ok E parte subito La squadra, il Celtic Subito Benfica si può rendere pericoloso con Fekir che entra in aria Minchia un po' Messo a tappeto però è calcio d'angolo Spazzata a biton Ci va Gaetan dalla bandierina La riesce a mettere in mezzo Taxidi se la colpisce, Gordon la fa sua Sera, attacca adesso il Celtic con Farfan Gol, incredibile All'undicesimo, Farfan Così, prima azione, primo gol E... Jefferson, Jefferson Attenzione, Nyang Nyang il tiro, Gordon Non la trattiene ma la respinge in calcio d'angolo Adesso stiamo attaccando noi a quindicesimo Ci va, Salvio La bandierina la riesce a mettere in mezzo Gordon invece la fa sua Attenzione, il movimento di Nyang No, 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 no Me l'ha toccata Sviacenco lì Però cos'è, fuorigioco? Sì, fuorigioco appunto Salvio Salvio al tiro Dai Fekir E tiro, gol Nabil Fekir Al trentunesimo Pareggia così Dopo un'imprecisione del portiere Gliela respinge sui piedi a Fekir E per un momento stava per sbagliare E rivediamo qui Dai, tutti a festeggiare perché siamo contenti che pareggiamo tutte le partite Salvio, recupero la palla Il tiro E Fekir Non sbaglia Cazzo sì Dobbiamo adesso fare un altro gol per forza Calcio di rigore Per il Celtic Ingiustamente Ci va Farfan Farfan Fuori L'ho sbagliata Per fortuna Per fortuna Non c'era neanche il rigore Non ho fatto niente io Meglio così però E finisce qui il primo tempo Incredibile L'ultimo minuto ho attaccato sempre solo io E qui è un'azione di Leustic, credo Sì, lui E niente Andiamo a secondo tempo E la formazione la lasciamo così perché sta girando bene Poi sicuramente metterò tre ore E vedremo cosa potrà succedere No vabbè Che gol mi ha fatto Incredibile Brown Beh Cioè Boh Jeffrey Sondra ha fatto un cross Che neanche Gesù l'ha proprio fatto Poi vabbè Ha fatto un gol della Madonna E Cioè Boh Non ho parole Perfetto Perfetto Siamo sotto Bene Attenzione adesso il Benfica in attacco Col Grimaldo Che riesce a mettere in mezzo Il colpo di testa No vabbè Gordon Che parata che ha fatto Ha avuto un riflesso della Madonna Incredibile Però è calcio d'angolo per noi Ci va Salvio dalla bandierina La mette in mezzo Però è ancora nostra E Salvio La rimette in mezzo Calcio di rigore No Fuorigioco mi sa Appunto Sì Luisao contro Griffiths Perfetto Ecco appunto Guarda Guardate Non ce l'ha Ok E perfetto Finisce qui la partita Non è vero Perfetto Un beato cazzo Alla fine Boh Non riuscivamo più a fare in azione Perché si erano tutti chiusi in difesa Io con una Ultra attacco Ultra offensiva Lì quel cazzo che è Boh No comment Andiamo alla seconda partita Che è molto meglio Bene ragazzi Adesso siamo qui Dobbiamo andare contro Lestoril Praia Che è quinto in campionato Noi siamo Tavi Tanto facciamo fare Come al solito Un piccolo allenamento Ecco qui Perfetto I nostri giocatori salgono Con le loro Potenzialità Li abilità Non mi rinvengono neanche le parole Se voliamo tutto Andiamo avanti Perfetto Giardel Si è ristabilito Lo andrò a mettere in panchina Anzi Così così Lo metto direttamente In titolare Anzi no Fammi mettere Lopez A posto di Luisao No Eliseo A posto di Grimaldo Per fortuna È tornato E perfetto Siamo qui Adesso per giocare In casa Contro lestoril Estoril Praia Praio Praia Vabbè Qual cazzo che è Praia Esatto Estoril Praia Benfica Estoril Praia Però aspettate che dove si stoma la formazione Arrivo su Ok ho solamente messo Sanchez E tre ore A meno così Magari Possiamo fare qualcosa di meglio Andiamo alla partita Sperando di farne una buona cosa Forza Benfica E tagli Ed eccoci qui tornati al World Stadium Per Benfica Estoril Praia Sperando che sia una partita Meglio Di come andata in Champions League Perché Abbiamo fatto 157 tiri E un gol solo Dobbiamo sicuramente vincere Per assicurarci Un altro posto alto Nella classifica E niente E niente Sì Rento Sanchez Vede Gaetan Gaetan il tiro No traversa Su diviazione Merda Traore la rimette in mezzo di testa Come cazzo che è un portiere? Taxides si gira Lascia la palla Niang Che la lascia Rento Sanchez Che rivede Niang La verticalizzazione No mamma mia Il portiere col petto la parata Bene Tre ore Tre ore portapalla Tre ore La mette in mezzo E hanno Tavares La devia così In calcio d'angolo Ci va Nico Gaetan Dalla bandierina Per i roli E Gue Guegermi Giorgio Lo chiameremo Giorgio Però ancora Semedo Il tiro di Semedo Giorgio La fa sua Calcio d'angolo per l'Estoril 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 Come cazzo si pronuncia Ci va D'Amado Di mezzo Traore Libera Così Niang Può ripartire Sì 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 Niang può ripartire Sfrutta la sua velocità Attenzione Gerso Portapalla La Mamma mia Lisandro Devia la palla di Amado E la mette in calcio d'angolo Però Amado Dalla bandierina Al 32esimo La mette in mezzo Però è Di Gaetan Attenzione Traore Libera Niang Che può correre Verso il portiere Niang 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 Il tiro Mamma mia Benfica In vantaggio Al 34esimo Con Mbaye Niang Dopo un Bellissimo assist Di treo Di treo Era da solo Niang Però ok Niang Freddissimo Non ha sbagliato Peno male Se no lo castravo E finisce qui Perfetto Il primo tempo E Stiamo in vantaggio noi 1-0 Col gol Niang La formazione Lasciamo sempre così Andiamo al secondo tempo Sperando di fare qualcosa di buono Attenzione Incredibile Cioè io non me la sbattavo perché Non mi sono messo neanche a parlare perché Vabbè Come potete vedere qui Tavare se sono sbaglio Passa a Giorgio Giorgio però Non so cosa vuole fare Ha sbagliato il controllo E Tarapt Sfrutta l'occasione Per segnare la rete del 2-0 Rivediamo qui Non mi è piaciuta La convinzione di Giorgio Uscendo No grandissimo Perfetto 2-0 signori Perché noi non ci accontentiamo Noi non ci accontentiamo del 2-0 Tarapt Tarapt Entra Nani al tiro Giorgio l'ha parata però ancora Tarapt Dopo che ha preso l'incrocio Segna così Tarapt Al novantesimo Doppiata per lui Appena entrato Rivediamo qui Tarapt Si ferma Poi il tiro Giorgio l'ha devia sull'incrocio E poi Tarapt Controllo E tira Incredibile E finisce qui anche questa partita Non so Sembra una fotocopia Delle episodi precedenti Prima abbiamo perso Adesso vincendo Cos'è dopo pariggiamo? Spero di no Perché dobbiamo vincere assolutamente Quindi a questo punto Potete vedere qui 9 tiri contro i loro 6 Però sti cazzi Andiamo avanti che meglio Come sempre Non ci facciamo mancare Gli stessi giocatori per allenarli Perché ormai È una routine di questa serie Potenza tiro di Niang è 85 Bene ragazzi Siamo giunti all'ultima partita di oggi Dobbiamo vincere assolutamente Per quest'altra prossima partita Di campionato contro il Marittimo Dobbiamo vincere allo stadio Neder Con Alfonso Segretario Perché era importante Era molto importante Leggere questi due nomi Cioè queste due parole Perché fa figo Ed eccoci qui tornati Allo stadio Neder Dopo una brevissima pausa Di mezz'ora No scherzo Marittimo Benfica Sperando di vincere Perché almeno così Se vinciamo Siamo forti Così calcio di punizione All'ottavo minuto Ci va Nicolas Gaetan La proviamo ancora Incredibile No Traversa No non ci voleva questa Per niente Poi un casino in aria E non è entrata la parte Attenzione Tarapt Il tiro di Tarapt Un po' troppo in là Peccato Una buona azione Avevamo fatto Calcio d'angolo Ci va Rodriguez Nella bandierina Che la mette in mezzo Xavier 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 La Butta fuori insomma Non mi veniva la parola Calcio di punizione Ci va Gaetan Che la mette in mezzo Niang di testa E Salin Non ci arriva Ma la stocca E la mette in calcio d'angolo Ci va ancora Salvio Con un cross a giro Però è ancora di Salvio Che la mette giù Poi la ricrossa Salin la tocca E la mette così In rimessa laterale Attenzione Marietto mi attacca Con Ruben Ferreira Julio Cesar La devia così In calcio d'angolo A 43esimo Stasi stanno attaccando Un po' loro Rodriguez Dalla bandierina Taxidi Si mette sul vertice Appunto Ho fatto bene A mettermi sul vertice E si può ripartire Più o meno E finisce qui Il primo tempo Marittimo Benfica Una partita Abbastanza equilibrata Tre tiri da una parte Quattro dall'altra E per ogni secondo tempo Che è molto meglio Adesso ci sarà anche Qualche sostituzione Non ci voglio credere Porca puttana Diavara Segna così Papapapapa Papapapa Babacar Diavara Tutto con la Finisce Non so se ho fatto vedere Il gol Perché Mi stava cadendo Il joystick Quindi ho premuto La X La Sì la X Quindi vabbè Siamo in svantaggio Dobbiamo assolutamente Recuperare questo Questo gol Perché siamo veramente Sfigati Non lo so Ogni occasione C'è sempre Un'occasione buona Per superare gol insomma attacca adesso xavier xavier minchia però stava arrivando qui lo cesar fa niente i lori la devia in calcio d'angolo ci va rodriguez sperando che la canna no non ci voglio credere non ci voglio credere è uscito a vuoto no 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 vabbè no vabbè non ci voglio proprio credere possiamo partita no possiamo mettere la champions league possiamo prendere il campionato metto ederson cioè non mi ricordo come si chiama ederson boh si credo vabbè quello che stiamo allenando insomma attenzione niang niang è partito niang niang li tripla tutti no vabbè che tiro di merda però vabbè saline la fa sua attenzione fekir fekir è andato via fekir entra in ania fekir vabbè questa è proprio sfiga palo no questa è sfighissima cazzo finisce qui incredibilmente la stessa identica cosa dell'episodio scorso si vince si perde si pareggia vabbè si vince no si pareggia si vince si perde è incredibile questa cosa non me la so spiegare e non è fatta apposta le statistiche parlano chiaro 7 tiri o 5 nel marittimo però vabbè fa niente magari in champions league potremmo fare qualcosa di buono adesso appunto ci sarà la partita contro cska e siamo terzi se usciamo andiamo in europlique però noi dobbiamo vincere e il celtic è tutto sta nel champions league adesso quindi ragazzi oggi è tutto tanto ronaldo in testa con i marcatori però che se ne frega da michi è tutto o da miso vabbè uguale noi ci vediamo in un prossimo video e sicuramente sarà o questo non so questo video che ora lo vedete probabilmente lo cercherò di far uscire prima dalle 14 o alle 14 poi vediamo e il prossimo voglio provarlo a far uscire alle 18.30 o alle 18 comunque questi ore qui saranno i prossimi video oggi pomeriggio stasera vabbè è uguale o domani con un nuovo episodio lasciatemi altre tre like quattro like anzi stavolta rimo quattro like ah devo farvi vedere una cosa per favore regia andate un attimo su musica un po' cupa un po' un terrore alla mano ragazzi ho il gerso ok basta basta scherzavo volevo fare una cosa carina ma non ci sono riuscito però che se ne frega comunque da miso è tutto noi ci vediamo in un prossimo video bella a tutti